Buonasera, sono Maria Rosa Bersanetti del Centro Teccio Samli Mencio di Indi Belvedere Langhe. Come promesso dal programma di oggi del Centro vi racconterò la vita di Buddha Sakyamuni. Penso che vi farà tutti quanti piacere sentire la storia tratta dal mio libro che sto scrivendo adesso, I maestri del Buddha. Chiaramente è un libro che racconta un po' la storia di, non di tutti i maestri perché sono veramente tanti, ma fa un filo conduttore fra quello che è il fondatore del Buddismo Buddha Sakyamuni e in più quello che è stata la discendenza degli allievi da lui fino a un po' i giorni nostri. In questo libro che sto scrivendo c'è anche un po' di storia, un po' di connessioni mondiali di come si è sviluppato il Buddismo, sempre molto largamente perché se non ci vorrebbe veramente un sacco di volumi per essere dettagliati in questo racconto del Buddismo nel mondo, perché è molto antico il Buddismo, 2500 anni di storia, è veramente complesso raccoglierlo. Però ho voluto creare una situazione di collegamento fra quello un po', creare questa spiegazione insomma di quello che è un po' il contenuto e il senso del maestro e del discepolo che proviene dal maestro principale Buddha Sakyamuni, poi tutti gli allievi e i maestri a loro volta subentrati nella pratica, nella realizzazione fino ai giorni nostri. Giusto per dare anche fede a quello che è il risultato effettivamente del sentiero e dell'insegnamento che diede Buddha. e questo stesso ci sto ancora lavorando perché mi sono andato un po' più a mescolare in questo aspetto qui perché comunque penso che sia importante avere diciamo un'infarinatura su tutto quello che è stato il percorso del Buddismo e mi ricollego sempre un po' all'esperienza di quello che è stato anche il nostro centro perché quando il libro parlerà dei maestri del passato e del futuro c'è un collegamento molto importante su questo perché molti maestri passati sono stati visti qui e anche in altri centri e poi dopo si vedono adesso le nuove rinascite, le nuove incarnazioni con la continuità dell'insegnamento e diciamo l'impegno del Bodhisattua che si mantiene nel tempo. Bene, adesso vi racconto la mia storia della vita del Buddha è molto sintetico ma penso che mi piacerà. Buddha in lingua Pali significa chi conosce o raggiunge l'illuminazione. A seconda della tradizione il Buddha può essere visto come un uomo ordinario che ottiene la liberazione per mezzo del suo sforzo straordinario o altrimenti come un essere già illuminato che si manifestò 2500 anni fa al fine di mostrare il sentiero per l'illuminazione. Secondo la datazione tradizionale il Buddha Sakyamuni, anche conosciuto come Buddha Gautama, visse dal 566 al 485 avanti Cristo nel centro dell'India settentrionale. Differenti fonti buddiste contengono numerosi svaregati racconti sulla sua vita con ulteriori dettagli che appaiono soltanto gradualmente nel corso del tempo. È difficile accertare l'accuratezza di molti di questi dettagli considerando che la prima letteratura buddista fu messa per iscritto soltanto tre secoli dopo la morte del Buddha. Esistevano le trasmissioni orali, una volta usavano la memoria, la mente. Ciò nonostante, solo perché certi dettagli emersero in forma scritta, più tardi in altri, non è una ragione sufficiente per pensare che non siano validi, poiché molti dettagli avrebbero potuto continuare ad essere trasmessi in forma orale. Generalmente le biografie tradizionali dei grandi maestri buddhisti, inclusa quella del Buddha stesso, furono generalmente compilati ai fini didattici e non permette ragioni storiografiche. Più specificatamente, le biografie dei grandi maestri furono scritte per insegnare il sentiero spirituale per raggiungere la liberazione e l'illuminazione ai seguaci buddhisti ed ispirarli per seguire questo percorso fino in fondo. Perciò per trarre beneficio dalla biografia del Buddha dobbiamo comprendere in questo contesto e analizzare le lezioni di vita che essa ci può trasmettere. Le fonti più antiche che parlano della vita del Buddha includono nell'ambito della scritta Theravada alcuni sutra in pali tratti dalle collezioni di insegnamenti di media lunghezza, Banyamika Mikaia e nell'ambito delle varie scuole in Ayana una serie di testi Vinaya che riguardano le regole della disciplina monastica. Tuttavia ognuno di questi testi ci rivela solo piccole parti della vita del Buddha. I primi racconti più estesi appaiono alla fine del secondo secolo avanti Cristo in opere poetiche del buddismo per esempio nell'opera Mahashastru della scuola Mahasangika dell'Inayana questo testo che non era incluso nelle tre collezioni tripicata aggiunse per esempio il dettaglio che Buddha nacque come principe in una famiglia reale. Un'altra di queste opere poetiche apparse nella letteratura della scuola Sarvashidada dell'Inayana si tratta del sutra del gioco esteso Alittavistara Sutra, versioni Mahayana. Successive di questo testo si basano su questa prima versione e la elaborarono spiegando per esempio che Buddha Sakyamuni aveva ottenuto l'illuminazione molto tempo prima e che si era manifestato come principe Siddhartha per dimostrare come raggiungere l'illuminazione agli esseri senzienti di questa era. La nascita, la gioventù e la rinuncia Secondo le narrazioni più antiche Buddha Sakyamuni nacque in una ricca famiglia di guerrieri riscotrattici in uno stato di Sakya che aveva come capitale Kapilavastu al confine tra l'India e il Nepal attuali. Non è menzionato che Sakyamuni nacque come principe nella famiglia reale. Il padre si chiamava Suddodhana e la madre Amayadevi Così come nella storia lo concepì miracolosamente durante un sogno la madre vide un elefante bianco a sei zanne entrare in lei dal suo fianco. Il saggio a Sita le predisse che il bambino sarebbe diventato un grande re o un grande saggio. La nascita di Buddha avvenne nel fianco della madre nel boschetto di Lumbini vicino a Kapilavastu e appena nato fece i suoi primi sette passi e disse sono arrivato. Da giovane Buddha ebbe una vita piena di piaceri sposò una donna di nome Yesodara ed insieme ebbero un figlio Raula. All'età di 29 anni Buddha rinunciò alla vita di famiglia e alle sue radici principesche e divenne un ricercatore spirituale mendicante e itinerante. Dobbiamo considerare la rinuncia di Buddha nel contesto della società del suo tempo quando il Buddha se ne andò per diventare un ricercatore spirituale. il Buddha non abbandonò la moglie e il figlio in uno stato di difficoltà e povertà sapeva che la sua ricca famiglia si sarebbe occupata di loro. Inoltre il Buddha era un membro della casta guerriera e quindi avrebbe dovuto comunque compiere lasciare un giorno la sua famiglia per andare in battaglia e questo era un fatto accettato come parte del dovere di un uomo del suo tempo. Si possono combattere battaglie infinite contro nemici esterni ma la vera battaglia è quella contro i nostri nemici interiori ed è questa la battaglia che Buddha scelse e andò a fare. Il fatto che Buddha lasciò la sua famiglia e andò a fine si dice che il suo dovere è di un ricercatore spirituale e dedicare tutta la sua vita a questa ricerca. Se nel nostro mondo moderno dovessimo lasciare le nostre famiglie per diventare monaci dobbiamo prima assicurarci che i membri della nostra famiglia abbiano tutto il necessario per vivere. Questo significa che non dobbiamo soltanto prenderci cura del nostro padre e dei nostri figli ma anche dei nostri genitori anziani. Comunque a prescindere del fatto se lasciamo la nostra famiglia oppure no come buddhisti abbiamo il dovere di diminuire la sofferenza superando la dipendenza dal piacere come fece Buddha. Il Buddha vuole superare la sofferenza comprendendo la natura della nascita della vecchiaia e della morte della rinascita, della tristezza e della confusione. Il Buddha desideroso di avere come era fatto il mondo di fuori delle mura della corte dove viveva esce per tre volte successivamente per vedere di capire fuori dal suo palazzo come era la realtà del mondo. Andò nel villaggio col suo carro condotto dal suo servitore Channa. Il Buddha vide nella città le persone malate, vecchie e dove cremavano i morti nonché una sceta e Channa offrì una spiegazione per ciascuna cosa che videro. Così il Buddha identificò chiaramente le sofferenze che noi tutti dobbiamo sperimentare e provò a pensare ad una soluzione ossia la ricerca della liberazione dalla sofferenza. Gli studi e l'illuminazione Buddha andò nella giungla lasciò tutti i suoi agi e iniziò la sua ricerca della liberazione. Itinerando così studiò con due maestri i metodi per raggiungere i vari livelli di stabilità mentale e della concentrazione. Riuscì a raggiungere il livello più elevato di questi stadi di concentrazione perfetta nei quali non provava più la sofferenza grossolana e nemmeno la felicità mondana ordinaria ma non soddisfatto del risultato si rese conto che come questi stati processassero un sollievo unicamente temporaneo e non permettesse da questi sentimenti contaminati essere eliminati certamente le forme più profonde e la schiavitù della sofferenza dalle rinascite, samsara che cercava di superare provò a praticare una forma estrema di ascetismo con cinque compagni ma anche questo metodo non risolveva i problemi più profondi connessi al ciclo incontaminato delle rinascite e delle morti. Samsara così il Buddha smise di digiunare e dopo sei anni sulle sponde del fiume Nargayana accettò una ciotola di risa al latte dalla giovana suggiata e rifiutò l'ascetismo ritirandosi a meditare da solo nella giungla. Cominciò così ad allenarsi nella ricerca per superare la paura dovuta all'aggrapparsi ad un io esistente aiuto gratificante che sta alla base della nostra ricerca compulsiva l'attaccamento. Buddha raggiunse la completa illuminazione all'età dei 35 anni realizzò l'illuminazione sotto l'albero della body dell'odierna Bodhgaya dopo essersi difeso con successo contro gli attacchi di Mara l'impersonificazione dei nostri demoni e impedimenti interiori che cercavano di ostacolare l'illuminazione di Buddha emanando dalle presenti spaventose seducenti per disturbare la sua meditazione nei resoconti più antichi Buddha raggiunse la piena illuminazione ottenendo tre tipi di conoscenza la conoscenza completa di tutte le sue vite passate del karma delle rinascite di tutti gli altri esseri e delle quattro nobili verità realizzò così l'illuminazione e raggiunse l'onniscienza questo è proprio in super in super short ma molto concentrato la storia della vita del Buddha e questo anche per ricordare perché siamo nel mese del Vesak il mese in cui si festeggia per tutti i buddhisti del mondo sia la nascita sia il pari nirvana che coincidono lo stesso giorno del primo giorno del mese del plenilunio questo giorno è già passato però si festeggia per tutto il percorso del mese ampiamente con cerimonie preghiere ritiri attività di buon auspicio ci sono anche delle tradizioni laiche che festeggiano il Vesak come giorno della pace nel mondo come giorno di rigenerazione di purificazione e poi effettivamente è un mese in cui praticando più cose spirituali positive si creano molti meriti più che negli altri mesi poi per parallelismo anche nel cristianesimo il mese della Madonna è molto propenso proprio anche per le litanie per recitare dei rosari fare delle attività di preghiera anche nel sentiero cristiano quindi c'è anche qualche collegamento dal punto di vista del periodo che ha una una connessione proprio così di così di amicizia diciamo perché molto spesso anche nelle tradizioni anche pur essendo diverse ci sono dei collegamenti positivi che creano comunque una certa amicizia di ecumenismo visto nel senso della pace del creare del positivo e dell'energia di saggezza per tutti quanti noi ci accomunano bene poi visto che abbiamo fatto la vita del Buddha che sinteticamente significa un po' tutto riprendendolo un pezzo per pezzo tutto quello che racconto è la cosa più importante è la rinuncia alla causa della sofferenza al samsara e quando Buddha gli viene il dubbio che quello che ha è impermanente può avere una natura effimera cerca qualcosa di stabile duraturo che comunque sia una felicità che rimane per sempre che è la base dell'umanità e quindi per questo lui va a fare le sue ricerche interiori e scopre come tanti scienziati lui è la scienza interiore la scienza della mente per creare la cessazione della causa della sofferenza del samsara e mettere le cause per il nirvana la beatitudine innata di ognuno di noi bene direi che di fare il mantra di Buddha Sakiamoni giusto per creare visto che abbiamo questa connessione abbiamo pensato a lui e facciamo la nostra solita meditazione che facciamo usualmente da ormai questa è la 44esima puntata delle pillole del Buddha e quindi di nuovo visualizziamo sul nostro capo Guru Buddha su un trono d'oro e i gioielli il trono e i leoni in questo aspetto molto decorato molto ricco rappresentano le realizzazioni spirituali e quindi danno questo tipo di senso e immaginiamo che dal suo cuore dal mantra di Guru Buddha si emana un ettaro un fluido che lava e che ci ispira completamente per ottenere le cause del nirvana eliminare la causa della sofferenza mentre possiamo pensare a questo un ettare che fluisce che da questa ispirazione e toglie le nostre assurazioni mentali Namo Gurubie Namo Buddhaya Namo Darmaya Namo Sangaya Namo Gurubie Namo Buddhaya Namo Darmaya Namo Sangaya Namo Gurubie Namo Buddhaya Namo Darmaya Namo Sangaya Namo Triratnaya Namo Darmaya 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 Om Muni, Maha Muni, Sakya Muni e Sova. Om Muni, Muni, Maha Muni, Sakya Muni e Sova. Om Muni, Muni, Maha Muni, Sakya Muni e Sova. Om Vajra Sattva Samaya Manupalaya. Om Vajra Sattva Tenopatishtadidome Bhava. Suttokayome Bhava, Suppokayome Bhava. Anurato me Bhava, Sarva Siddhi me Prayatsa. Sarva Karma Suttame, Shita Shriyam. Kuruhum, Maha, Hahu, Bhagava. Sarva Tattagata Vajra Mamemusta. Vajra Babama Samaya Sattva Aumpe. Om Shude Shude Sova. Yamo Shude Shude Sova. Ramo Shude Shude Sova. Lamo Shude Shude Sova. EYAM RAN LAM BAN Shude Shude Sova. OM Muni, Muni, Maha Muni, Sakya Muni e Sova. OM Muni, Muni, Maha Muni, Sakya Muni e Sova. OM Muni, Muni, Maha Muni, Sakya Muni e Sova. OM Muni, Muni, Maha Muni, Sakya Muni e Sova. Gye Wadi Hinyo Duda, Jetsu Dul Madru Gyune, Druva Chinja Malupate, Zalago Parisho. Iauravati, Nímō Dulle, Z IC não, nem é guiando nelesha, Ní sem 직ou de Dedichiamo l'energia positiva così accumulata e creata in questo incontro affinché le persone possano avere tutto quello che desirano, sia felicità temporali che ultime e che possa al più presto risolversi la pandemia mondiale e creare una situazione di equilibrio e di armonia fra tutti i popoli di questa terra. In modo che gli uomini possano anche avere più saggezza nelle scelte dal punto di vista dell'ecologia, dell'ambiente, del modo di vivere, di vivere più sami e più spirituali, più felici. Vi ringrazio della vostra attenzione e ci sentiamo domani con un'altra puntata delle pillole di saggezza dal Buddha a cura del centro buddhista di Bebbi delle Langhe e di Maria Rosa Bersanetti, Sam Lin Gelma. Ciao, buona serata a tutti voi. Ciao, ciao. Ciao.